Si presenta la città in cui andrà a ricoprire un ruolo delicatissimo, quello di procuratore aggiunto. Gerardo Dominiani, ex sostituto procuratore alla DDA di Catanzaro, ieri ha ricevuto la nomina del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura e ha festeggiato chiudendo la manifestazione culturale Tabula Rasa, organizzata dal giornale online Strill.it. Stimolato sul palco dalle domande della giornalista di Radio 24, Raffaella Calandra, il magistrato ha affrontato i temi che molto probabilmente faranno parte del suo impegno come aggiunto alla procura regina. Reati delle pubbliche amministrazioni, il consenso sociale dell'andrangheta come legame da spezzare, ma anche del delicato ruolo della magistratura capace, per legge, di intervenire soltanto ex post sulle situazioni che costituiscono reato, insomma il controllo morale deve essere effettuato dalla società. Sì, sicuramente diverso ma anche con molte similitudini, Catanzaro non è sicuramente in certi aspetti inferiore alla criminalizzata regina, in alcuni aspetti anche credo che sia uguale. Lascio un ufficio a Catanzaro, un bell'ufficio, delle belle indagini con degli ottimi colleghi e questo è il mio rammarico. Poi la speranza è quella di trovare, anzi la sicurezza di trovare a Reggio altri tanti colleghi validi e continuare così il mio lavoro.